Comtec innovativo, molto semplice da installare, un prodotto svedese che unisce la semplicità all'estetica. Qui possiamo vedere tutti i modelli della produzione Backman sono torrette di varia tipologia per installazioni conference, ufficio quindi sia in soluzioni di alimentazione piuttosto che prese HDMI VGA e rete configurabili dall'utente come vuole. Anche questa novità dell'ISE Comtec Italia distribuisce i prodotti Barco videoproiezione della serie Present, Collaborate e Impress. Sono tre linee nuove che Barco ha introdotto sul mercato dedicate al mondo dell'installazione fissa. Da 4.000 ansi lumen fino a 10.000 ansi lumen delle serie Present, serie Collaborate con widescreen e la serie Impress che arriva fino a 16.000 ansi lumen quindi per applicazioni con luminosità maggiore. Questa è l'ultima nata della produzione TV One ed è la serie Corio Master Mini un processore che permette la gestione di più segnali audio-video per applicazioni conference, applicazioni fisse ma anche molto interessante per il mondo Rampart.